Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo dare il benvenuto al mondo al piccolo Giovanni Guglielmi per la gioia di mamma Silvia e papà Vittorio nonché dei nonni materni Elisa e Ippazio e paterni Fernanda e Giovanni, quest'ultimo grande amico della nostra redazione. Al piccolo Giovanni venuto alla luce presso il punto nascite di Termoli che ha pesato circa 3 kg, l'augurio di una vita ricca di salute e di amore circondato dall'affetto dei propri familiari. Naturalmente gli auguri più affettosi da parte mia e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Calcio di Lega Pro questa mattina a Selva Piana, conferenza stampa del Campo Basso come già anticipato ieri dalla nostra emittente Cudini dopo tre stagioni ha salutato i Rosso Blu. Si è tenuta questa mattina nella sala stampa di Selva Piana la conferenza stampa che ha sancito ufficialmente la separazione fra il tecnico del Campo Basso Mirco Cudini e la società Rosso Blu. Alla conferenza stampa era presente il patron Gesuè, lo stesso Cudini e il direttore sportivo De Angelis che rimarrà in Rosso Blu come aveva anticipato lo stesso Mario Gesuè. Dobbiamo dire che era una decisione che probabilmente era nell'aria già da qualche tempo e che è stata dettata ad avviso delle parti in base a quello che hanno riferito sia Cudini che la società Rosso Blu da una divergenza riguardo gli obiettivi futuri. E' quindi lo stesso Cudini che probabilmente rimarrà in Lega Pro, non si sa ancora bene la sua destinazione, c'è chi parla dell'Ancona Matelica, qualcun altro dell'Avellino, qualcun altro addirittura ha ipotizzato che Cudini possa andare in Serie B. Ma una cosa che verificheremo a breve, lo stesso Cudini che ha lavorato bene al Campo Basso insieme al suo staff, il staff che andrà insieme al tecnico marchigiano. Quindi parliamo del vice allenatore Giuseppe Antoniozzi, del preparatore atletico negro, dello stesso preparatore dei portieri Cristian Ciccioni. Dunque il Campo Basso si appresta a vivere una seconda fase a livello tecnico, una seconda fase che scatterà a partire dal primo di luglio, come ha precisato patron Mario Gesuè, ma sulla quale si sta già lavorando intensamente da qualche settimana a questa parte. Era assente il DG Mandragora, è stata una separazione tra le parti in bello stile, ripetiamo, secondo quanto hanno affermato le parti per divergenze riguardo gli obiettivi futuri. Lo stesso Cudini ci ha tenuto a sottolineare che l'aspetto più importante creato qui nel capoluogo dopo una serie di monca, un'altra vinta, una salvezza in Lega Pro, è stata la mentalità che lui è riuscito a dare ai giocatori, a detta dello stesso tecnico, i veri artefici degli obiettivi raggiunti alla fine della conferenza. A margine della conferenza c'è stato anche l'intervento di Mario Gesuè sul futuro che scatterà a partire dal primo di luglio. Ha voluto anche rielaborare il passato e tutti i debiti che la proprietà attuale che è in carica ha trovato dal giorno del suo insediamento nel 2018. È voluto intervenire anche quando è stata data la parola al direttore sportivo De Angelis. C'è stata una commozione, neanche troppo nascosta da parte dello stesso direttore sportivo, che interrompe quindi il suo rapporto non solo lavorativo ma anche di amicizia con Mirko Cudini. A proposito dell'ormai ex allenatore del campo basso Cudini, sentiamo uno stralcio del suo intervento in questa conferenza che è stata appunto a lui dedicata quest'oggi. Io ringrazio tutti pubblicamente, l'ho fatto anche ieri tra di noi ed era giusto farlo, ma lo faccio anche pubblicamente, chi ci sono stati vicini, sia nei momenti difficili che nei momenti di soddisfazione. Chi fa questo lavoro a volte deve mettere in previsione anche queste situazioni. Non è facile lasciarsi quando le cose vanno bene, perché poi dopo il rammarico forse ci sarà sempre. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, perché quando siamo arrivati le ambizioni erano queste, se non sbaglio, e quindi siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Sicuramente migliorabile, potrebbe essere migliorabile nel tempo. In questo momento c'erano o abbiamo bisogno di stimoli nuovi. E quindi a volte quando si percepisce che non si possono avere, ma non c'è la possibilità in questo momento forse di avere situazioni diverse, è giusto magari lasciare. E quindi questo è il nostro pensiero, mio e del mio staff. Quindi ringraziando in prima persona le due figure che sono qua, che è il Presidente e che è il Direttore. Se ora siamo qua a parlare di questo, lo devo a loro, questo sia chiaro a queste due persone. Quindi al di là di tutto quello che c'è stato dietro, mi dispiace che non ci sia Gigi Mandragola, che ha sempre fatto parte di noi e quindi questo sì. Buongiorno a tutti e tre, volevo chiedere a livello tecnico cosa pensa di lasciare, che tipo di campo basso? Noi abbiamo sempre detto una base solida, al di là dei cambiamenti che avverranno a livello di giocatori, ma una base solida su cui innestare, togliere, mettere, in grado di cose che poi può essere anche naturale nel futuro. Come ho detto prima, sicuramente lasciamo una grossa identità sia tecnica che di mentalità. È una squadra che nel tempo è cresciuta anche a livello di duttilità, quindi è una squadra che è riuscita a riconoscere diverse situazioni. Quindi la base credo che sia buona per ripartire e soprattutto per cercare di migliorarla sotto quelle che sono le possibilità. Quindi la cosa che faccio fatica, no faccio fatica, però in questo momento a lasciare, ok, è aver creato proprio questo tipo di mentalità in questo gruppo. Quindi sicuramente la base è alta in tutto, sia nell'aspetto tecnico credo, che nell'aspetto mentalità. E quello della mentalità credo che sia la cosa più importante. Basket femminile di Serie B, questo pomeriggio alle 17 alla Molisana Arena, i fiori d'acciaio senza Del Bosco, alle prese con un problema fisico, affronterà il Basket Roma. Oggi si conclude il percorso delle Rosso-Blu nella Pool Playoff, traguardo già di prestigio per una rosa giovanissima al primo torneo senior. Palla polo maschile di Serie B, oggi alle 18 l'Energy Time Spike Devils sarà impegnata in casa della capolista Green Bari. Ultimo appuntamento con la regular season. Torniamo a parlare di calcio, turno di riposo nel campionato di Serie D, ma il vasto girarti domani scenderà regolarmente in campo per recuperare la 26esima giornata giallo-blu impegnati a Monte Giorgio. Con i gironi F e G di Serie D fermi fino a domenica 8 maggio, data in cui verrà disputata la 14esima giornata di ritorno, domani lo spazio sarà dedicato esclusivamente ai quattro recuperi in programma. Nel raggruppamento F è previsto il recupero della 26esima giornata tra il Monte Giorgio e il vasto Girardi. Dopo aver disputato contro il Pineto la prima delle quattro gare ancora da giocare per mettersi al pari delle altre compagini del girone, la formazione di Mister Prosperi ora si trova con un punto in più guadagnato proprio contro gli abruzzesi. Il risultato di parità è da considerarsi assolutamente positivo, oltre che molto importante perché ha permesso agli altomolisani di portarsi ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta e la consapevolezza di avere in dote ancora tre gare da recuperare. Quello in programma domani, in terra marchigiana, rappresenta invece un vero e proprio match in chiave corsa salvezza. 40 punti per il giallo-blu, 37 per il Monte Giorgio. Entrambe le squadre scenderanno in campo alla ricerca di punti per risalire un po' la china e assicurarsi un nuovo anno in Serie D senza passare per i play-out. Alla vigilia della sfida con il vasto Girardi, il mister rosso-blu Fabio Brini si è espresso in questo modo. Ci aspetta una sfida cruciale, questo recupero può dire tanto in ottica salvezza e vogliamo fare bene. Sicuramente la partita sarà complicata perché il vasto Girardi è un'ottima squadra, ma abbiamo lavorato bene e siamo pronti. Bisognerà avere pazienza ed essere intelligenti durante i 90 minuti. Mister Prosperi non dovrebbe stravolgere l'undici visto in opera qualche giorno fa al di Tella contro il Pineto, anche se permane la possibilità di optare per qualche turnover, in modo da consentire ai suoi uomini di recuperare le forze in vista dei tanti impegni ravvicinati. Casacca numero uno per Distasio, in difesa Montuori, Minchillo secondo e Capitano Ruggeri. Al centro del campo Guadalupi, Alagia Irace, tridente offensivo composto da Kunzo, Salatino e Guida. Al Tamburri, con fischio d'inizio alle 15, Montegiorgio Vasto Girardi sarà diretta dal signor Gianluca Martino della sezione di Firenze, assistito da Simone Piomboni di Città di Castello e Gianmarco Cardinali di Perugia. Dopo Montegiorgio ancora un recupero per i molisani, impegnati al di Tella mercoledì 4 maggio contro la Recanatese, capolista del girone ad un passo dalla Serie C. Poi, domenica 8 maggio, al via le ultime quattro giornate di campionato. In programma Vasto Girardi, Porto D'Ascoli. Il Vasto Girardi deve risalire la graduatoria, sei le gare a disposizione per Capitano Ruggeri e naturalmente per tutti i suoi compagni per raggiungere quota salvezza. Sergio Ruggeri, difensore del Vasto Girardi, 1-1 con il Pineto, si poteva fare di più, puntava dalla vittoria. Peccato forse per i primi 20-25 minuti dove avete giocato un po' male, avete concesso il golo, poi avete recuperato e siete riusciti a rimanere in partita e potete anche vincere. Sì, noi comunque ogni volta che giochiamo puntiamo sempre per vincere, però purtroppo ci sono gli avversari. Noi siamo stati bravi poi a riprenderla perché comunque subire uno svantaggio del genere ti taglia un po' le gambe. Siamo stati bravi a riprenderla, la volevamo vincere, però nel contempo era anche una partita da non perdere che potevi perdere. Quindi siamo stati bravi a mantenere sul pareggio e noi comunque abbiamo altri due bonus in modo tale che un punticino alla volta ci possa tirare fuori dalla lotta dei play-out. Quello che si nota dalla tribuna è che giocate bene, palla a terra, però poi avete problemi negli ultimi 20 metri dove non riuscite a finalizzare tutte le azioni che create. Noi comunque cerchiamo di giocare sempre da dietro in modo tale da poter ambire e arrivare davanti, però ti ripeto ci sono pure gli avversari che comunque sono tosti. Poi qualche volta ti va bene, qualche volta finalizziamo male, qualche volta sbagliamo di nostro, però l'importante è arrivarci e cercare di giocare palla a terra come lo stiamo facendo dall'inizio dell'anno. Non c'è tempo però per recriminare, adesso continuo il tour de force che vi attende, prima trasferta a Monteggio dove lì dovete cercare di uscire con risultato positivo, poi arriva qui nel recupero ancora la capolista de Canatesa. Tutte partite che punto dopo punto, come hai detto tu, bisogna farlo. Sì perché purtroppo la classifica è cortissima, a qualche punto sta nei pleati e a qualche punto sta là sopra. Il nostro obiettivo è quello della salvezza, è normale che giocando ogni 3-4 giorni ti rende la vita un po' più difficile perché non riesci mai ad allenarti come si deve, le energie che tu spendi sono tante e non riesci a recuperarle al 100% e quindi purtroppo devi fare risultato perché comunque domenica andremo ad affrontare una squadra importante come Monteggio che sta a lottare come noi, è uno scontro diretto importantissimo che tu non devi perdere, devi portare almeno qualche punticino a casa per poi pensare una partita alla volta per poi arrivare all'area canatese e poi si vedrà. L'ultima cosa, guardando un attimo il film della stagione, Sergio, 40 punti si dilina con i vostri obiettivi ovviamente, però a qualche punto diciamo che vi manca in qualche partita non giocata benissimo. Sì, è normale che abbiamo affrontato partite comunque toste, noi abbiamo perso all'andata col Pineto, abbiamo perso a Recanati, se non sbaglio domenica col Trastevere, comunque sono partite importanti, di alta classifica che nel campionato nostro quello che dobbiamo fare noi ci può stare, poi è normale che se riesce ad arrivare qualche punticino è tutto di guadagnato, però il nostro percorso comunque lo stiamo facendo perché noi stiamo, diciamo con i recuperi da fare, le partite che restano a sei giornate alla fine abbiamo 40 punti, è un campionato un po' anomalo perché la lotta a salvezza a mio avviso bisogna arrivare intorno ai 45-46, che sono tantissimi perché qualche anno fa secondo me a 42 eri già salvo da tanto tempo, però noi ti ripeto siamo qui, combattiamo e andremo lì a Montegiorgi per cercare di fare risultato. Niente impegni nel weekend per l'FC Matese che è già proiettato la sfida di domenica 8 in casa contro la capolista Recanatese. La squadra di Mister Urbano oggi fuori dalla griglia play-out deve raggiungere quota salvezza. Calcio a 5 in trasferta Cus Molise-Chaminad per il penultimo turno di campionato. Il team universitario ospite della Lazio, la formazione cadetta di scena a Bitonto, squadra in campo alle 16. Per il torneo regionale nel fine settimana sono previste le semifinali play-off con gara secca in casa della meglio classificata. Per il girone A Colli al volturno Caraceno-Roccaravindolo-Aboiano in campo oggi alle 16. nel girone B allo Sturzo oggi città di Campobasso-Jumenes-Termoli. Domani sempre alle 16 San Martino-San Severo. Adesso il calcio d'eccellenza. 29esimo turno in eccellenza oggi in campo a Vena-Frosso Campano. Il quadro si chiude domani con Altila-Sanium-Termoli, Ururi-Guionesi, Boiano-Volturnia, Caselli-Sangolo-Campobasso-1919, Cliternina-Isernia, Olimpia-Gnionese-Gambatese e Pietra-Montegorvino-Campo di Pietra. Dopo l'anticipo di oggi tra Vena-Frosso e Sesto Campano, tutte le altre scenderanno in campo domani. Ultimi 180 minuti nel campionato d'eccellenza, con alcuni verdetti ancora da decidere. Sono sette le gare in programma, vediamole nel dettaglio. La capolista e vincitrice Termoli farà visita al già retrocesso Altila-Sanium nel più classico di testa-coda. Si prevede una goliata con gli atletici che vogliono finire bene il campionato. Locali già da un po' con la testa alla prossima stagione di promozione. Nel match d'andata 14-0 Termolese, arbitra De Castro di Campobasso. Il città di Senna-Sanleucio viaggia verso il TSA Stadium per affrontare la Cliternina. Pentri obbligati a vincere per mantenere il secondo posto. Locali già sicuro dei play-out. Per entrambi la testa è già la post-season. Pronostico per Panico e Soci, ma la Cliternina venderà a cara la pelle. Un girone fa, netto 4-0 Isernino. Dirige il signor Piciucco della sezione di Campobasso. La terza forza del torneo, campo di Pietra, attesa in terra pugliese dalla Pietra Montecorvino. Match non facile per diralle Soci contro i rossoneri. Che nell'ultimo match, Casalingo vogliono un risultato positivo per coronare l'ottima stagione disputata. Ospiti che devono difendere i quattro punti di vantaggio sull'Olimpia agnonese. Nelle ultime due giornate si prevede una partita divertente che è stata affidata al signor Simonelli di Sernia. All'andata finisce a 3 per il campo di Pietra. Quarto match in calendario è la sfida tra l'Ororurria e il Guionesi. Derby basso-Morisano tra due squadre tranquille che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi. Ne può uscire una partita ricca di gol che un girone fa vide successo per 2-0 del Guionesi. Dirige il signor Di Domenico di Sernia. L'Olimpia agnonese al Civitelli attende il Gambatesa. Un solo risultato a disposizione per il Granata, la vittoria. Se vogliono aspirare ancora al terzo posto per i Neroverdi, con la salvezza ormai in tasca, è poco più che un amichevole. Pronostico per i Altomolisani nel match d'andata secco 2-0 Granata. Questa partita sarà abitrata da Matteo Pasqua dalla sezione di Termoli. Boiano-Volturnia si sfidano al Colalillo, ultima in casa per i Matesini. Guidate da Aurelio Colalillo, cercano i tre punti da regalare ai tifosi. Dopo la brutta prestazione di sette giorni fa a gamba tesa. Rientra Paduano per gli ospiti in difficoltà, match di preparazione e play-out. Quattro pronostico per i Biancorossi all'andata finì 2-1 per il Boiano. Fisca il signor Palmieri di Brindisi. Chiude il quadro Cassia di Sanco, Campobasso 19-19. Partita che sta avveso volo a derinare la griglia play-out. Con gli ospiti che vogliono mantenere i quattro punti di vantaggio. Locali costretti a vincere per portarsi a meno uno dei Rosso-Blu. Partita delicata che è stata affidata al fischietto di Nabil Gazi della sezione di Schio. Ricordiamo infine che il fischio di inizio per tutti i match è fissato alle ore 15. Torneo di promozione. Campionato di promozione alle 15 in campo. Juvenesto Petacciato, Donche e Saizernia, Virtus Gioiese e Ripalimosani. In campo alle 16. Spinete, Guardia Alfiera e Turris Torremaggiore. 17.30 il fischio di inizio per Maronea Baranello. Domani in campo. Campomarino Termole e Sampietro in Valle Trivento. Appena 2. Le gare in programma domani. La stagione agonistica 2021-2022 alle cosiddette battute finali. In promozione restano da giocare le ultime tre gare. Tuttavia ci si avvia ad un finale di stagione dove è possibile già carpire i primi verdetti. Tutte le gare sono state anticipate per questo pomeriggio, ad eccezione di due competizioni che invece si giocheranno nella giornata di domani. Prima sfida in programma è il derby di giornata, quello tra Campomarino e Termoli 2016. Nello scorso weekend per la capolista registriamo un'altra partita giocata bene, ma che ha visto il punteggio chiudersi con un pareggio contro il Ripalimosani, un punto importante ma che ha lasciato l'amaro in bocca. Domani i locali dovranno fare a meno di Masci Longo, squalificato per una gara effettiva. Da segnalare che la società Rosso Blu in occasione della gara ha deciso di garantire l'accesso libero ai cittadini di Campomarino per supportare la squadra del paese alla conquista dell'eccellenza. D'altro canto il Termoli 2016 è attualmente a nove distanze dalla capolista, reduce di una vittoria ottenuta contro i Donche e Sagnone. Campomarino-Termoli 2016, una gara non di certo da definire semplice, sarà arbitrata da Marco Aurisano di Campobasso. Secondo e ultimo match previsto per questo weekend, Atletico San Pietro in Valle-Trivento. Due squadre tranquille nella pancia della classifica. Entrambe hanno l'obiettivo di cercare di aumentare il bottino in graduatoria per assicurarsi un finale sereno. Le due compagini sono distanziate solo da due punti con l'Atletico San Pietro in Valle che insegue. Per questa partita la formazione ospite dovrà fare a meno di Pasqualone e Civico, squalificati ambe due per una gara effettiva. A gestire il match Daniele e Iuliano della sezione di Termoli. Le squadre scenderanno in campo alle ore 15. Adesso vediamo le grafiche di prima e seconda categoria. Prima categoria, girone A, si è già giocata. Macchia Codenese e Bois verano 1-4. Domani, Campobasso Calcio alla Fidelis, Carpinone, Real Prata, Forum, Rocca, Ravindola, Montenero, Pozzilli, Adax, Pietra, Mellara, Castello, Matesa. Per il girone B, Real San Martino, Piammalarino, Sant'Angelo, Limosano, Montenero, Locomotive, Riccia, Biccari, Macchia Valfortore, Castel Mauro, Angina Colletorto, Adax, Toro, Polisportiva, Fortore, Matrice e Real Gildone, Casali Dauni. Seconda categoria, girone A, Fornelli, Monteroduni, Paumas, Villa San Michele, Longano, Carovilli, Pescolanciano, Olimpi, Quisernia, Rufri, Vesenzano, Pettoranello e Castelpetroso, Altretic, Mignano. Girone B, Oratino, Sant'Angelo, Hermestoro, Campolattaro, Morcone, Roseto, Fossaltese, Sant'Eliana, Salcito, Chaminad, Busso e Tufara, Mirabello. Chiudiamo con il girone C, Ripa, Bottoni, Frentania, Difesa Grande, Porticone, Sporting Club, Nuoto, Fiamma, Folgore, Muxu, Funi, Portocannone, San Giorgio, San Giovanni, Ingaldo, Polisportiva, Guglionesi, Riposa, Rocca, Vivara. Bocce, successo organizzativo per la bocciofila frosolonese che è tornata ad organizzare il trofeo città di Frosolone Memorial Laleleo Pallante. Ne abbiamo parlato con il presidente. Siamo con il presidente della bocciofila frosolonese Pasquale Mangione. Due giorni di gare di ottimo livello a Frosolone. Sono andate in scena le due gare che come ogni anno vengono intitolate alla memoria di Laleleo Pallante. Si inizia come di consueto con l'anteprima del 24 aprile che quest'anno ha vinto la vittoria di una terna della bocciofila frosolonese per proseguire con la gara nazionale del 25 aprile che quest'anno ha visto ben 150 atleti al via in rappresentanza di società di sette regioni. Sì, giusto come dicevi. È stato due giorni che non ce l'aspettavamo. Con tutti questi iscritti dove siamo dovuti arrivare a Vasto, a Ponte dell'Antolfo, provincia di Beneabria, abbiamo preso tre province. È stata veramente una bellissima serata, una bellissima, ma in tutti i sensi un po', perché ci sono state tante persone, circa 200 persone nel Borsotrono. a vedere tutte queste persone era impossibile. E circa 130 persone sedute lì alla premiazione e a fare veramente... Sono stato contentissimo per questo risultato che abbiamo fatto. Forse non ce l'aspettavamo nemmeno. È stato un po' sacrificante per quanto riguarda tutti i ragazzi che si sono dovuti spostare da una parte all'altra, ma come serata veramente è stata bella. Veniva un po' dai due anni un pochettino di questo male che gira. Adesso ci siamo provati, le persone stanno tutte entusiaste perché vogliono ricominciare tutti quanti. Ecco perché, che dire, la gara più bella di così credo che non poteva essere. In nome sia di Lelio Parlante, ma sia della città di Frosolone, dove ogni quattro anni si cambia un sindaco, ma sono sempre vicino alla bocciofila frosolonese. E li ringrazio anticipatamente. La Fib Molise sta lavorando per uscire dall'emergenza sanitaria che ha costretto un po' tutte le attività sportive a tirare i remi in barca, ma adesso si sta ricominciando a giocare. In due giorni a Frosolone oltre 200 atleti in gara. Sono iniziati i campionati di società e perla della stagione di questo 2022 in Molise saranno le finali scudetto dei campionati di società di prima, seconda e terza categoria che porteranno a Campopasso oltre 300 atleti per conquistare ben tre titoli italiani. Questo speriamo bene per quanto riguarda tutto quanto questo. C'è tempo comunque fino a novembre per realizzare tutte queste partite, sia di prima, seconda e terza categoria, come diceva. Ma speriamo di fare bella figura e esserci, ma qua non lo dico come Frosolonese, ma lo dico come Molise, che ci siano delle rappresentanze di categoria della B, categoria della C, in questo torneo, questa Germes che si farà a novembre. Pesca al via ufficialmente oggi il Mondiale di Pesca con eschi artificiali da riva sul fiume Biferno. Questa mattina la prima sessione di gare, domani sempre dalle ore 8 alle 13, le sfide finali. Vi segnaliamo che nel weekend venerdì e sabato la pasticceria artigianale Riccio in Contrada, Colle delle Api, adiacente al ristorante Cine Panorama, torna con il servizio della cornetteria notturna da mezzanotte in poi. Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport sulla nostra emittente, domani alle ore 14.55 a tutto campo, in studio Benedetta Fazio, Gabriella Laurelli, e collegamenti dai campi dove giocano le squadre molisane. Alle 18 domani pomeriggio l'appuntamento con Domenica Sport, fatti commenti, interviste e immagini alla Domenica Sportiva. Vi segnalo anche i nostri highlights, i gol della Domenica domani sera a partire dalle ore 22. Bene, è tutto, buon fine settimana. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.